1913 recuperata a Firenze la Gioconda rubata due anni prima da Vincenzo Perugia 1963 Giulio Natta riceve con Carl Ziegler il premio Nobel per la fisica 1969 Milano ore 16 e 37 strage di piazza Fontana commenta il fatto del giorno Emanuele Dessy direttore dell'Unione Sarda 118 anni fa il primo segnale transoceanico grazie al nostro Guglielmo Marconi 12 dicembre 1901 nonostante il fortissimo e gelido vento Guglielmo Marconi riceve un segnale radio transoceanico è il primo messaggio radio fra Europa e America ed è composto da tre punti ed è la lettera S del codice Morse da quel segnale transoceanico sono trascorsi 118 anni c'è ancora da restare senza parole anche perché tanta tecnologia tanto progresso doveva ancora